Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di The Light and Chronos di Assassin's Creed Abbiamo saltato il secondo gruppo perchè abbiamo avuto dei piccoli problemi Questo è il terzo, l'abbiamo liberato dopo aver distrutto tutte le guardie E adesso lo portiamo in salvo Adesso attendiamo che salgono Uno è salito E tu non sai con chi hai a che fare? Ti informerò Antonio dei tuoi progressi Vieni da me più tardi, ho un altro lavoro per te Che tipo di lavoro? Vediamoci al mondo e ti spiegherò Ciao Ciao Vai subito da qualche parte Dove stanno? Lontani Molto lontani Lo che vuoi dimettere a quale di Stas? Non c'è Eh? Anche se non mi mangiarti di poco Mangiarti di poco dicono Boh Poggi Un treno da seguire E poi Non lo so Ma che cazzo Ma stai andando contro la missione? No Perché? Perché è qua che stanno inizendo Vedi a qui E poi Il nostro amico Il tuo amico Il mio frattempo è stato più che un atto di Canita Alencio Il mio amico è liberato avranno ruolo chiaro i prossimi giorni Chiedi loro aiuto E sì Nella madre E una volta al capo della mia complicola Mandandoli contro a le guardie Creeranno un diversivo Aprendo la strada Esatto Eviterò di sporcare la spada del sangue Mi piace bene ora ti dico come servire il piano di rettonio prevede uno stratagema dobbiamo travestirci d'arcieri ma per fare questo ci servono le loro armature ne è appena arrivato un carico pronto per essere consegnato a palazzo della sede e bagarrubo ruota le tasse e recupera gli uniformi ok una volta fatto dovrei procurarne anche una barca e ripartarla qui ci servirà per fare entrare la barca sta proprio là ma quella non serve serve una barca precisa qui adesso è mattina dovrebbe essere no è sempre sera vai muoviti non esiste uno più deficiente di te è vero? no come no ah già hai ragione non esiste nessuno più deficiente di te perchè tu sei o must dei deficienti forse lì dietro da tre sali sopra ignorante perchè non mi fai usare ciò che amo di più only you do cazzo vai dietro le guardie eh scusa che sfizio c'è ma sei un'ignorante ma sei un'ignorante ecco adesso per esempio tutti quanti qua tutti quanti qua tutti quanti qua via only you vai fuggi non c'è nulla per te qui sono con te fratello ecco le abbiamo consumate tutte noi tre ne abbiamo un bisogno scusa non buttatemi li vedete che vi ho fatto ecco te l'hanno buttata solo un danno acchiappato ma è così dai vai rubare la barca che si trova qui giù quindi tuffati fai un bel tuffo no quello non la puoi rubare devi andare vicino al remo comunque se la vuoi rubare ecco ma chi è che mi ruba il cazzo guarda guarda colpite mi colpite ok ora scappi ora scappi ma vabbè tu tu un cazzo via tu che non 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 ti ho messo che vuole che l'ha fatto e ti ho uscito via via la cacchia dai rubo con la cosa che non ce la faccio più levati ma vaffanculo sono più veloce sono più veloce ma è che facciamo una derapata una derapata finale sull'acqua sei andato da sbattere dov'hai? ma vado cazzo sto guardando e non gira è qua gira stronzo devi girare devi girare finalmente molto bene è proprio quello che ci serve ciao ciao a te ok ragazzi grazie per aver visualizzato questo video votate commentate iscrivetevi al canale del light e chronos ciao ciao